Johnny, ciao, benvenuto, buon ritiro. Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Abbiamo iniziato dalle nuove scarpe che vesti da questa stagione. Anche curiosità da parte dei tifosi, insomma, se ne è parlato tanto. È vero che hanno un grande controllo? Queste scarpe? Sì? Sì, le scarpe sì o no? I tifosi sembrano pensare qualcosa di diverso, perlomeno da come ti hanno acclamato. Abbiamo visto anche fare un gol bellissimo nel corso di questo ritiro, saltando 4-5 giocatori. Sei ripartito con il passo giusto, quello con cui avevi concluso la stagione? Ancora no, ancora no. Devo rientrare in forma, devo arrivare al mio peso giusto. Sto lavorando per questo. Tutte le due gambe mie sono un po' bloccate ancora per il lavoro che stiamo facendo qui. Però questo fa parte del lavoro e ogni giorno dobbiamo migliorare queste cose che stanno succedendo. È corretto dire che ti sei preso l'Inter piano piano, nel senso che all'inizio della stagione hai avuto una storia particolare con l'Inter. Sei iniziato sempre più importante nel cuore dei tifosi. Ragionavo, preparando questa intervista, sul fatto che sei tra i più grandi, come età del gruppo oggi, qua in ritiro. Ovviamente tanti ragazzi che ci sono hanno bisogno di un esempio positivo. Certo. Iniziare in ritiro è sempre un po' difficile perché stiamo tornando di vacanza. Quello che tu hai detto, sono più vecchio adesso, in ritiro, perché mancano altri a arrivare. Quello lo so. A titolo personale, invece, per quanto ti riguarda, cosa vorresti aggiungere alla stagione che hai vissuto l'anno scorso, quest'anno? Hai segnato, hai fatto bene, sei diventato un po' un idolo del pubblico, hai avuto grande considerazione. Cosa pensi di poter fare in più quest'anno che arriva? Io penso di aiutare l'Inter di più di quello che ho fatto l'anno scorso e, se possibile, portare l'Inter in Champions League. Se dovessi scegliere un compagno di squadra che credi che possa quest'anno avere un ulteriore salto di qualità, a parte Gesù che ci hai già detto che nei prossimi due anni quantomeno avrà questo scatto, qualcuno che possa essere decisivo per una stagione dell'Inter? Penso che Matteo Kovacic, perché alla fine della stagione dell'anno scorso ha dimostrato che sta crescendo, sappiamo della qualità di lui, sappiamo che è un talento, però ha dimostrato questo alla fine della stagione. Sappiamo che è troppo giovane ancora, ma quest'anno avrà tante partite per dimostrare e io credo che lui può essere quello cacciatore che può fare quel salto diverso della nostra squadra. Prova Inter Channel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Inter Channel e poi scegli Sky, liberi di... Grazie a tutti.